La quarta giornata della spedizione non ha avuto l'esito sperato, in quanto solo tre esemplari si sono presentati al nostro studio, di cui due sono stati identificati e per i quali tuttavia è stato possibile raccogliere le schede relative ai vari comportamenti che ci hanno mostrato. In realtà poi la giornata ha proseguito in modo molto interessante, soprattutto dal punto di vista didattico, perché a Dekelders, dove si trova una interessante grande prateria di kelp, tipica alga, che può raggiungere fino a 18 metri di altezza, è stato possibile svolgere attività di snorkeling da parte dei ragazzi, che quindi tutti si sono potuti immergere in tutta sicurezza, per osservare nel loro ambiente naturale alcune specie di squali tipici di questi ambienti, di piccole dimensioni, poco più grandi dei gattucci e dei gattopardi, si chiamano squali pigiama, apoderma e apoplefarus, e tra l'altro è stato possibile per i ragazzi anche accarezzare, sono animali soscevoli che facilmente si fanno accarezzare, quindi un'esperienza che ha permesso loro di conoscere meglio il tipico ambiente dove vive anche il grande squalo bianco.